pace e bene cari fratelli e sorelle bentrovati in questa quarta domenica di quaresima ecco il meraviglioso incontro tra gesù e un cieco nato questo testo splendido che la chiesa ha da sempre letto in chiave battesimale un uomo cieco dalla nascita incontra gesù ne ascolta la parola si immerge nell'acqua della piscina dell'inviato e pian piano vede comprendendo sempre più chiaramente la verità di colui che lo ha guarito noi cercheremo di mettere in luce alcuni passaggi del cammino di fede di quest'uomo tenete conto che questo lungo racconto è in realtà una narrazione di un processo che in diverse tappe viene fatto gesù entriamo nel brano perché davvero meraviglioso uscito dal tempio di gerusalemme dove gesù ha celebrato la festa di succot delle capanne ecco che gesù vede un uomo bisognoso un uomo cieco dalla nascita anche discepoli di gesù lo vedono ma lo guardano con uno sguardo diverso loro conoscono la dottrina tradizionale del giudaismo che legava malattia a peccato e non guardano quest'uomo come una persona sofferente bisognosa di aiuto ma si fermano a cercare l'origine del suo male per questo chiedono a gesù maestro ma chi ha peccato lui o i suoi genitori perché sia nato cieco ecco uno sguardo giudicante è quello sguardo che possiamo avere noi credenti quando cerchiamo facili spiegazioni e vogliamo subito individuare colpa e colpevole è un po' la tentativo di racchiudere la realtà in buoni o cattivi giusti o ingiusti ma gesù rifiuta questo sguardo non propone alcuna spiegazione a questo male sofferto dal cieco quanto piuttosto coglie la sofferenza il grido di aiuto si fa prossimo con grande compassione e si mette a operare per liberare quest'uomo dal male far trionfare la vita tenete conto che come diceva padre cantala messa questa storia e quest'uomo ci interpellano da vicino perché in un certo senso siamo tutti noi tutti noi siamo nati ciechi fisicamente sappiamo bene che i bambini neonati non mettono a fuoco bene la realtà hanno bisogno di qualche settimana per farlo ma non solo venendo al mondo c'è un altro occhio che ha bisogno di aprirsi ed è l'occhio della fede quell'occhio che ci permette di scorgere un altro mondo al di là di quello che vediamo con gli occhi del corpo è il mondo di dio di un dio che è padre e noi non lo sappiamo il mondo meraviglioso del vangelo di ciò che significhi davvero amare della realtà meravigliosa della vita eterna insomma di chi è dio di chi sono io volendo usare una immagine pensate ad un paesaggio altro è quel paesaggio durante la notte altro è quel paesaggio visto alla luce del sole il sole è cristo tanto più lui sorge nella nostra vita tanto più coltiviamo il rapporto con lui tanto più la realtà e tutta la nostra esistenza prendono una luce totalmente diversa e magari quello che fino a ieri per te era solo una sventura inizi a vederlo come provvidenza quello che per ieri è stato soltanto un ostacolo lo inizi a vedere come occasione quello che per te ieri era soltanto una porta chiusa oggi la inizi a vedere come una grande possibilità che ti è stata donata quella che fino a ieri era la tua vita che tu consideravi quasi nulla e sprecata oggi inizi a riconoscerla come una vita donata e amata quest'uomo è nato per tutto questo ma è cieco è nato per la luce ma non può vederla è nato per essa ma non la conosce gesù vi dicevo va allora incontro a quest'uomo e mette in atto dei gesti anzitutto in pasta del fango in tal modo gesù ripete il gesto con cui dio ha creato adam il terrestre plasmandolo dalla dama dalla polvere del suolo poi gesù cosa fa lo invia la piscina di siloe cioè gesù gli sta dicendo di fare qualcosa di andarsi a lavare nella piscina un gesto che richiama il battesimo ma questa piscina significa inviato diceva agostino quindi come se gesù dicesse immergiti in me credi in me accogli ciò che io ti sto dicendo quest'uomo lo fa va e ritorna che ci vede è bellissimo perché qui c'è la cooperazione tra dio che prende l'iniziativa ci tocca ci parla si rivolge a noi e la nostra adesione a lui che rende possibile la luce rende possibile che iniziamo davvero a vedere tante volte vedete proprio così anche nella nostra vita quando uno accoglie gesù inizia ad accogliere il vangelo ad ascoltare la sua parola si iniziano ad illuminare gli eventi vissuti le prove che viviamo tutto inizia a prendere un'altra luce inizia a vedere tutto con occhi diversi inizia a vivere tutto con cuore diverso ma questo fatto scatena un processo contro gesù abbiamo quattro scene da una parte vi dicevo all'inizio c'è un processo contro di lui dall'altra c'è il cammino di fede di quest'uomo ecco nella prima scena abbiamo i vicini quelli che conoscevano questo non vedente e si rivolgono a lui e lo interrogano su che cosa gli sia accaduto se è veramente la stessa persona e lui con forza deve ribadire ma sono io che prima ero cieco ma ora ci vedo in queste persone possiamo quasi vedere un ostacolo alla fede cioè non pensare che sia possibile diventare persone nuove non pensare che sia sempre possibile ricominciare indio invece così viene per darci una vita nuova per darci sempre una nuova possibilità per quest'uomo però le spiegazioni su gesù non abbondano diciamo che è stato guarito ma non lo ha ancora conosciuto davvero infatti per lui gesù è ancora un uomo quindi primo step del cammino di fede per lui gesù è un uomo seconda scena ora quest'uomo affronta i farisei gli osservanti esperti della torà perché giudichino l'operato di gesù loro non sono d'accordo perché secondo loro il sabato deve essere un giorno di riposo e gesù lo avrebbe infranto secondo le loro categorie ecco nei farisei potremmo quasi vedere un altro ostacolo l'ostacolo del bloccarsi nelle proprie convinzioni l'ostacolo di chi non è disposto a lasciarsi scardinare nelle proprie idee della serie così si è fatto deve essere sempre così così la penso e così è per quest'uomo invece gesù è un profeta guardate ha già fatto un passo prima era solo un uomo ora è un profeta e ci è arrivato con un ragionamento semplice se non fosse da dio non potrebbe compiere le opere che fa segue la terza scena non accettando la dichiarazione dell'uomo guarito questi uomini religiosi fanno chiamare i genitori e li interrogano sulla cecità del loro figlio costoro sono colti dalla paura e preferiscono non interpretare ciò che è chiaramente accaduto al figlio ecco in costoro potremmo quasi vedere un altro ostacolo alla fede che è il dramma di chi non vuol perderci nulla ecco questi genitori avevano paura delle conseguenze che poteva avere il fatto di testimoniare a favore di gesù essere allontanati dalla comunità essere estromessi dalla società non vogliono perderci nulla vogliono che tutto continui come è sempre stato che non ci siano sconvolgimenti tra l'altro che sarebbero più che positivi perché si parla della salvezza nella loro vita ed ecco la quarta e ultima scena questi farisei chiamano di nuovo l'uomo guarito e cercano di convincerlo loro hanno l'autorità e sanno che gesù è un peccatore e insistono a quest'uomo continua a dire se sia un peccatore io non lo so una sola cosa so ero cieco e ora ci vedo e alla fine lo cacciano via dalla sinagoga come fosse uno scomunicato allontanato dalla società e dalla comunità del tempo una volta che è stato scacciato insultato quest'uomo incontra di nuovo gesù e a questo punto ecco che si svela il vero processo in corso gesù infatti va e gli pone una domanda da cui nasce il dialogo che costituisce il vertice di questa pagina tu credi nel figlio dell'uomo e chi è signore perché io credo in lui lo hai visto e colui che parla a te credo signore e si prostrò in adorazione davanti a lui vedete le tappe del cammino di fede di quest'uomo prima per lui gesù era un uomo poi man mano è un profeta ora lo riconosce come signore ed è interessante perché gesù condotto alla piena fede quest'uomo dice ad alta voce io sono venuto nel mondo perché coloro che non vedono vedano e quelli che vedono cioè che pensano di vedere già diventino ciechi in conclusione veniamo a noi descrivendoci tutto questo cammino è come se l'evangelista ci prendesse per mano per aiutarci tutti a far maturare la nostra fede in gesù chissà ognuno di noi che punto è chi è gesù per me che gesù sia un uomo realmente esistito nessuno lo può negare che sia stato un profeta che ha aperto all'umanità orizzonti nuovi religiosi e morali e assodato pure i musulmani nel corano lo riconoscono ma il salto di qualità vero per il quale si diventa cristiani proprio quando si proclama gesù signore lo si adora come dio facendosi passo dopo passo che lui sia sempre più il centro della nostra vita il punto di riferimento chiediamo in questa domenica che il signore ci aiuti a riscoprire il dono grande di essere stati battezzati di essere stati resi partecipi della sua vita chiediamogli che ci aiuti a vederci sempre più chiaro chi è lui chi siamo noi sulla verità e il senso profondo di ciò che viviamo ricordandoci che la nostra fede non è primariamente credere qualcosa ma è credere in qualcuno qualcuno che ci ama al punto da dare la sua vita per noi credere in quest'amore è il cammino di tutta la nostra vita che dio vi benedica a tutti pace e bene